ciao questo è un nuovo video che visto che come film ultimamente ho visto che l'hanno messo sulle solite magari piattaforme magari quelle più conosciute che se qualcuno magari a qualche abbonamento e non l'avevo non l'aveva magari ancora visto che non era andato a vedere li volevo dedicare questo video anche se l'avevo già fatto l'anno scorso che gli volevo dedicare questo video ad al film di slam dunk the first slam dunk che è uscito è uscito il 10 maggio dell'anno scorso del 2023 che come film era stato distribuito magari tramite anime e factory come film che come film durava quelle due ore di film e quasi due ore e 5 e 5 di film che solito film amore di animazione che commedia drammatico che come regia questo tacheiko inove e di a sui qui e va che magari logicamente come si dice io vorrei il video dedicato dedicato morai al film appena è uscito l'anno scorso gli avevo già fatto a questo film di slam dunk ma visto che ho visto che che adesso magari non è magari non è andato al cinema a recuperarselo magari al cinema che ho visto che magari adesso tramite qualche applicazione solite magari piattaforme che magari quelle più conosciute adesso lo si può trovare dopo se uno ha qualche abbonamento può recuperare magari anche gratis il libro di morai voglio morai rifare questo video a proprio questo film che parla più che altro morai a di più che altro mai ho visto che morai questo film è più che altro concentrata a a uno a un giocatore in particolare a riota mi agi che che sta frequentando la seconda di liceo che altro morai 1 e 68 naturalmente morai un play della so q che ma è veloci con i con i piedi e ambi adesso con le maniche passato e sublime tra un tra uno look che che più che altro morai come si dice e questo questo film anche se mai come si dice fanno vede ma lei più che altro la partita una proprio partita di basket che nel frattempo fanno vede come si dice che avevano già provato ma è già in passato a a magari come come squadra elementare anche anche come serie come si dice però che ogni giocatore della squadra magari è a ti facciano conoscere proprio ogni ogni singolo giocatore in questo film anche se nello stesso momento ti che ti fanno vedere la partita più che altro e tra magari tra come si dice tra un momento andando avanti quella partita e l'altro fanno vedere più che altro magari dedicato a questo giocatore giocatore iota mi agi che più caldo morai concentrato più caldo su questo giocatore questo film qua per conoscere magari perché ti faccio anche magari in passato ho visto che le metà anche magari e oltre allo proprio allo sport di basket ti fa magari conoscere singolarmente magari ogni suo giocatore che compone magari la squadra e anche l'anno scorso quando ero andato a vederlo al cinema e come film d'animazione ha fatto anche bene anche bene che anche durante la partita quel magari col spirito magari di squadra e quelle magari effetto magari che fosse si può magari anche sentire magari durante la partita quel tipo quel che si dice quel fiscale ma lei di scarpe così avevo visto che ha fatto anche bene come film che visto che magari è visto che adesso lo si può trovare su qualche piattaforma li vogliamo magari dedicarli e mare ancora un video che che con l'ultima magari se del manga che è riuscita leggendolo mi ha anche io magari appassionato un po' a questo proprio a questa a proprio a Sleven Dunk che e che dopo appena che ho riuscito a finire se ero proprio magari andato a vedere questo film anche se magari all'inizio come serie non mi ispirava però dopo che ho andato a recuperare l'ultima edizione della serie del manga mi era tipo come cosa come se serie mi ha piaciuto molto perché io magari ero abituato con con olie benji al massimo con l'ultima come si dice con l'ultima serie di olie benji che l'ultima serie di olie benji si chiama si chiama capitano su basa io ero abituato magari col calcio e quando avevo letto questa serie proprio di l'ultima serie del manga di Sleven Dunk anche io magari personato a Sleven Dunk che ho visto che come come è fatta questa serie come si dice è fatto anche bene che mi è piaciuta per questo dopo avevo sono andato a vedere il film e una volta magari visto l'anno scorso come si dice mi ha anche la parte dei film mi è piaciuta e mi è un po' magari un po' pentito di magari come se questa qua di Sleven Dunk di non averla magari iniziata magari prima magari a seguire però come se questa qua di Sleven Dunk magari magari da parte mia è molto bella anche questo soprattutto anche questo ultimo film che hanno fatto che quando avevo finito anche l'ultima serie del manga di leggere mi ho andato a guardare anche proprio la serie dell'anime che me l'ho anche ricoperta tutta e niente che come serie Sleven Dunk ho visto che è buona come serie che merita che sicuramente una sicuramente magari una di quelle serie magari da consigliare anche nella parte dell'anime e soprattutto magari a parte magari anche del film che hanno provato a fare e niente quello che potevo dire su questo magari film di First Sleven Dunk magari l'ho già detta e al massimo ci vediamo sicuramente magari più avanti con i miei soliti magari video che porto magari sul mio canale che sicuramente magari lascio sempre magari se riesco qualche informazione sempre su questo film sotto che la lascio magari sotto in descrizione e niente per adesso magari vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao